Sala 1 dell'ex cinema maestoso di Lanciano Stracolma è folla incurante della pioggia fuori dai cancelli in via Bellisario, per ore dietro le transenne, come in attesa della rock star del momento. È stata questa l'accoglienza di Lanciano al vice premier e ministro dell'interno Matteo Salvini, ieri nella città frentana per sostenere il candidato del centrodestra alla presidenza della regione Abruzzo, Marco Marsiglio. Sceglieranno i cittadini di Lanciano, negare una piazza non è mai un bel segnale però, era star pieno di gente dentro e fuori, quindi a me interessa parlare agli abruzzesi, poi se qualche sindaco me lo fa fare al chiuso lo faccio al chiuso, altrimenti lo faccio sotto la neve non è un problema. Tornere in Abruzzo? Ovvio certo. Sento un'aria, una voglia di cambiamento, di guardare avanti, di sanità, di strade, di agricoltura, di sicurezza, quindi è commovente. Sondaggi? Sì, non parlo di sondaggi, parlo di vita vera e parlo di cambiamento che ci sarà e sono orgoglioso del fatto che la Lega sia un punto di riferimento per la buona amministrazione, nel senso che dove governa la Lega in tante regioni le cose funzionano.